Ben trovati, ben trovati a tutti voi anche a questo numero di app dentro la politica, il settimanale di politica di Teleniverso del giovedì sera in cui i protagonisti siete voi da casa, grazie all'interattività. Un altro protagonista, ospite gradito di questa nostra trasmissione, del nostro appuntamento è il presidente della Commissione Bilancio della Regione Lazio, Mauro Buschini. Salve. Buonasera, buonasera a tutti voi. Allora io vi ricordo prima di cominciare tutti i contatti per interagire con noi in trasmissione a partire dal numero di telefono, linee aperte per poter parlare, per poter sottoporre domande al nostro ospite 0776 72 8050, ma c'è anche il nostro account Twitter, chiocciolina app Teleniverso, in cui potete interagire con l'hashtag app2, oppure semplicemente inviare un'email che controlleremo seduta stante e all'indirizzo app chiocciolateleniverso.it. Come al solito io dico di andare a vedere quello che è il nostro desktop, il desktop della nostra grande applicazione e andiamo a vedere l'agenda della settimana con tutti i fatti più rilevanti della provincia di Fresinone, ma soprattutto d'Italia. La legge di stabilità del governo Letta continua a tenere banco. Confindustria e sindacati vanno all'attacco della manovra tra chi denuncia troppa timidezza e chi accusa che a pagare sono sempre i lavoratori. A Cassino invece si sogna un collegamento rapido tra centro città ed abbazia ed il sogno può essere realizzato in comune e viene protocollato il progetto. Mario Monti lascia scelta civica di missioni irrevocabili, lui dice, perché c'è una fronda nel gruppo al Senato che non ha gradito i suoi commenti sulla manovra. In Ciociaria intanto fa scalpore il caso, lanciato un mese fa da dell'Universo, di un imprenditore costretto a non poter pagare i lavoratori per un DURC mandato indietro in quanto la sua azienda aveva un debito di un centesimo. Napolitano difende la manovra e sottolinea come si debba rimanere dentro i parametri mentre Roma si prepara all'arrivo dei notab, cinque fermati prima della manifestazione. Deraglia un treno a Sgurgola, altra giornata di passione per i pendolari ciociari che già ogni giorno fanno i conti con ogni sorta di problematica. Sabato di guerriglia, Roma pochi, gli scontri che comunque si registrano, le forze dell'ordine evitano il peggio. 15 fermati tra cui un ciociaro. La regione sblocca altri 650 milioni per la sanità nel Lazio, ossigeno per chi è indietro nel ricevere i soldi della pubblica amministrazione. Sulla legge di stabilità continua la carella legata ai numeri, c'è chi parla di nuovo Italia alla sanità mentre il PDL impone il suo diktat sulle tasse alla casa scontrandosi con il ministro Saccomanni. Tre candidati del PD alla segreteria ciociara accusano un commercio di tessere in vista del voto. Il comunicato non viene firmato da Simone Costanzo. Quattro ore di sciopero, questa la misura scelta dai sindacati per dire no alla legge di stabilità. Letta dice sono stati precipitosi. Squinzi avverte non si facciano porcate in Parlamento in sede di conversione in legge del decreto. Nel Partito Democratico ciociaro si alza il tono dello scontro. Ora Buschini ed Antonetti chiedono l'intervento del Comitato Regionale di Garanzia del Partito. Tra le misure previste nella manovra spunta un nuovo blocco della rivalutazione delle pensioni e secondo alcuni calcoli i pensionati rischiano di perdere 300 euro all'anno. Ad un anno invece i carabinieri denunciano dieci persone tra cui l'ex assessore provinciale Cardinali. L'accusa è quella di aver appaltato lavori pubblici truccandoli. Berlusconi viene rinviato a giudizio. L'accusa per lui è quella di aver comprato senatori per far cadere il governo Prodi nella 2008. In società invece si accelera per avere un registro dei tumori sul territorio. La regione, su sollecitazione dell'ASL, si attiverà con il Ministero della Sanità. Allora onorevole, tanti gli appuntamenti. Prima di entrare nel vivo vi ricordo il numero di telefono per interagire con noi 0776 72 8050. Ho visto che le si è accesa la lampadina quando si è parlato di PD, del PD provinciale, di quello che è successo. Insomma che sta succedendo? Nulla di così strano e di così eclatante. In effetti è stato davvero assurdo leggere queste cose sui giornali che poi gentano ombre e soprattutto non danno una bella immagine del nostro partito all'opinione pubblica e all'elettorato. Nel PD si sta facendo un congresso. Una cosa semplice, ordinaria, doverosa perché il PD deve rimettersi in carreggiata e il PD ha bisogno di un grande cambiamento anche a livello provinciale e questa sera lo dico con ancora maggiore forza e maggiore convinzione perché quello che leggiamo sui giornali è davvero assurdo. Da parte soprattutto di chi firma cose che poi le commissioni di garanzia nemmeno prendono in considerazione per quanto sono irrilevanti. Si fanno dei rilievi su congressi dove c'è stato il massimo della legittimazione, dove le persone sono andate fisicamente. quale tipo di irregolarità ci deve essere nella iscrizione di una persona che poi regolarmente e fisicamente si rega a dare il proprio voto a questo o a quel candidato. Questa diciamo bolla anche mediatica non ha fatto bene a nessuno anche perché va precisato che nei congressi che sono stati oggetto diciamo di questi rilievi da parte di tre candidati alla segreteria vi erano segretari di circolo e garanti che erano espressione delle loro diciamo aree politiche e quindi deputati al controllo. Di fatto è come se ci fosse stata un'accusa tutta interna anche alle stesse aree politiche degli stessi candidati. A me è sembrato più un modo diciamo per semplicemente gettare confusione dentro invece una discussione che è necessaria. Io non vorrei che ci fosse anche diciamo un po' di tattica rispetto a tutto questo cioè discutere di queste cose anziché andare nel merito poi invece di una discussione che deve servire al PD per riavvicinarsi all'elettorato, per farsi carico di alcune problematiche che sono necessarie a questo territorio. Serve un partito completamente nuovo e noi vogliamo diciamo con la candidatura di Simone Costanzo mettere innanzitutto gli argomenti e le cose da fare. Altro è poi la discussione interna, sono anche problemi burocratici legati ad una macchina complessa che va al congresso ma insomma io credo che l'immagine del partito vada tutelata e salvaguardata soprattutto in momenti come questi dove ci sono i riflettori accesi, dove appunto siamo al centro dell'attenzione e della discussione, soprattutto in questi momenti la polemica interna non deve sfociare in cose di questo genere, anche perché lo ribadiamo a disco, si può forzare quando si vuole sul tesseramento ma poi fisicamente le persone debbano andare al seggio, al circolo, partecipare alla discussione e prendere poi parte al voto diciamo si può accapigliare quando si vuole, poi se fisicamente non si va a votare non capisco nemmeno di cosa si discute e infatti la commissione sia provinciale che quella regionale interpellata poi da me e da Aldo Antonetti perché noi siamo stati i primi a dire bene ma se ci sono tali irregolarità le commissioni intervengano però sanzionino anche coloro che hanno gettato tanto discredito sul partito se poi non ci sono i fatti e come è stato ieri sia anche la commissione regionale ha appurato che nemmeno diciamo bisogna prendere in considerazione i simili atteggiamenti. Ecco onorevole, lei che è stato anche segretario di questo partito a livello provinciale, queste beghe interne quanto fanno male al partito a livello di immagine ma soprattutto anche proiettando il pensiero a quelli che sono i prossimi appuntamenti elettorali perché ci saranno le amministrative, ci sarà il voto in comuni importanti della provincia di Frosinone. Fanno male, fanno male anche perché poi ne aspriscono e personalizzano gli scontri interni, un partito deve avere la capacità e la maturità di discutere, di affrontarsi sui singoli temi, ci sono tante diversità e questo dovrebbe essere il bene per un partito. Fa male perché diamo l'idea e l'immagine di un partito che invece non è tale, insomma io credo che il PD abbia davvero tutte le carte a regola per rappresentare una bella stagione nuova di questo paese e di questa provincia, ora siamo al governo, siamo al governo della regione, ci sono delle tornate amministrative ma il PD governa tanti comuni, è invece il momento di fare squadra, di farsi carico davvero di problemi drammatici, alcuni sono indicati nel servizio che abbiamo appena visto, puntuale, preciso, ci sono problemi da aggredire e io credo che la discussione di un partito, dei partiti dovrebbe guardare questo prima ancora che diciamo degli interessi di carattere dell'elettorale o dello spirito di parte. Velocemente, Mauro Buschini cosa ne pensa del percorso finora abbastanza ostacoli del governo Letta? È davvero un governo a scadenza o è un governo che può risolvere i problemi degli italiani? È un governo delle larghe intese, ci aspettavamo e ci aspettiamo tutti di più perché io credo siamo ancora nella tempistica utile per, rispetto alla legge di stabilità, incidere e vedremo ora come andrà la discussione in aula e gli emendamenti, le cose che appunto anche il PD saprà fare. È un governo che si è reputato necessario per dare un governo a questo Paese in un momento critico e dopo un risultato elettorale che non ha di fatto premiato nessuno. E quindi io credo che bene ha fatto il PD a farsi carico poi di stare dentro questo governo delle larghe intese, ma appunto, lo dice il termine stesso, è un governo che però non può assicurare scelte nette delle quali questo Paese ha bisogno. Il Paese ha bisogno di scelte chiare che rimettono in modo che cominciano a dare più soldi agli operai, che rimettono in modo in circolazione denaro, che dà una sponda e soprattutto una speranza, ma una certezza ai tanti disoccupati di questo Paese, rimette in modo politiche industriali. C'è bisogno della nettezza. A me è piaciuta molto la dichiarazione di Nicola Zingaretti di qualche giorno fa, quando ha detto rispetto ad esempio al LIMU e al fatto che LIMU sia stata tolta a tutti, anche a coloro che in realtà potrebbero permettersela, perché è giusto toglierla alle famiglie che non se la possono permettere, quindi individuiamo una soglia di ISE, individuiamo il reddito, togliamola alle persone che giustamente non possono permettersi, ma c'è una fascia alta che in realtà può permettersi di pagare questa tassa, che è di sostegno poi al resto del Paese. Non si può togliere LIMU a chi ha casa, piazza di Spagna e poi pensare di recuperare quei soldi magari tagliando sulla sanità, poi così non è stato perché tagli sulla sanità non ci sono stati, però c'è bisogno appunto di un governo che si faccia carico di fare delle scelte politiche, addirittura ci sono anche imprenditori di alto livello, di grande livello in questo Paese che addirittura loro dicono che bisogna anche tassare i livelli più alti del Paese, ma insomma è una tassazione che tutti ci possiamo consentire per rimettere in modo il Paese stesso. Ora io non sono tra quelli che dicono che tassando si rimette in modo un Paese, assolutamente, anzi io credo che alle imprese bisogna dare sostegno, soprattutto alle piccole e medie imprese, sostegno, detassazione, prebiare chi assume, sostenere uno sviluppo nuovo, però io credo che appunto noi abbiamo bisogno di scelte molto chiare e molto nette, una piccola azienda non può essere tassata a tal punto che per il costo del lavoro e per il livello di tassazione è costretta a chiudere, magari chiude nella morsa tra crediti non ricevuti, pagamenti non ricevuti dalla pubblica amministrazione, tassazione alle stelle, l'aumento dell'IVA, il costo del lavoro, insomma io credo che un Paese così non lo rimettiamo in modo. 0776 72 8050 per intervenire in diretta, rimaniamo per così dire nell'ambito nazionale, cambiamo il nostro segmento, andiamo ora a vedere quelle che sono, quella che è stata a discrezione della nostra redazione, la notizia diciamo più politicamente interessante da sottoporre al nostro ospite, è un articolo del fatto quotidiano che riguarda il congresso del PD a livello nazionale e ci parla dei quattro candidati. Allora ho sottolineato un po' di frasi poi commentiamo alla fine, vogliamo parlare a chi c'era e coinvolgerlo ma anche a chi non c'era, questo firmato Matteo Renzi che dice se non si ottengono i voti di coloro che hanno votato il PD alle precedenti elezioni si perde e lui ha detto vogliamo anche voti di Movimento 5 Stelle e PDL. Ancora Renzi ha detto sono tre le basi del nostro PD, i circoli, i amministratori e i parlamentari, conteranno di più i territori e meno i dipartimenti centrali. Per quanto riguarda poi le politiche europee ha detto iniziamo a realizzare in casa nostra le riforme che rinviamo da troppo tempo prima di pensare all'Europa. Cuperlo ha detto no all'autosufficienza è solo un mito, dobbiamo fare più grande il PD, essere perno e motore di una grande alleanza civica, politica e sociale coinvolgendo le forze del lavoro, dell'impresa e della conoscenza della società che si organizza. Poi c'è stato lo scontro tra Renzi e Cuperlo, Renzi ha detto io farò il segretario ma mi ricandiderò a sindaco, Cuperlo ha detto separare gli incarichi ad ogni livello e invece gli altri due candidati, Pittella ha detto rinnovamento non è trasferire il potere dai sessantenni ai quarantenni e nel suo documento trovano largo spazio, l'obiettivo della rinascita del sud e quello dei giovani con la proposta del reddito di cittadinanza. Pippo Civati invece ha detto basta accordi di palazzo, il partito rimedia gli errori su Prodi e Rodotà e poi il reddito di cittadinanza, il diritto di voto alle amministrative per gli immigrati, un piano energetico orientato sulle risorse rinnovabili, il matrimonio per le coppie gay, noi inceneritori e il tetto alle retribuzioni pubbliche. Allora innanzitutto Mauro Buschini cosa ne pensa di questi candidati? Dove è orientato? A casa magari se lo chiederanno? Sì ma io credo a casa si chiederanno soprattutto cosa vuole fare il PD e cioè qual è lo strumento che vuole mettere in campo per dare una risposta a tanti giovani disoccupati, a famiglie in difficoltà, a operai che perdono il posto di lavoro. Io credo che il dibattito del Partito Democratico debba incentrarsi su questo perché prima ancora di tante definizioni sull'identità, le caratteristiche del PD io credo che la nostra identità si fonda dentro i problemi che riusciamo ad affrontare. Renzi dice una cosa per la quale non si può non essere d'accordo e cioè che il PD deve allargare la propria base che non deve concentrarsi solo su ciò che è oggi ma sulla capacità di allargare il consenso e questo è vero però il punto è, lo ribadisco, un consenso si allarga sui programmi, sulle cose da fare, sulla capacità di coinvolgere, se il PD prima di affrontare una discussione tutta interna e tutta diciamo su che cosa deve essere affonda davvero nei problemi del paese, se c'è dentro e li riesce ad interpretare. Così come sono d'accordo con chi dice che rinnovamento non è sostituire quello che c'era prima e proseguire nella stessa maniera, quello non è rinnovamento, quello è una continuità. Rinnovamento è cambiamento vero se chi arriva alla guida del partito, se una nuova generazione si fa carico di prendere per mano il partito democratico e renderlo una roba attuale, una roba che sta dentro la società che parla il linguaggio, che va alla stessa velocità della nostra società, se cambia le istituzioni, se non ha paura di gettare il cuore oltre l'ostacolo, se appunto è un cambiamento vero, cioè una roba non solo di facce nuove ma metodi, argomenti, capacità, talento, se il PD diventa tutto questo allora è davvero il partito che la società ci chiede di fondare e sono d'accordo con Cooper, i doppi incarichi, le idee, diciamo guardate io credo noi dobbiamo separare la politica dal liderismo e dalla voglia di apparire, di essere tutti i protagonisti, di essere tutti i piccoli leader, l'idea che ciascuno nel partito si fa la sua piccola area politica io credo che noi abbiamo bisogno di davvero creare un partito che è un campo largo, che è una capacità di stare assieme, dentro il quale ciascuno ci mette le proprie idee e poi anche nella selezione delle classi dirigenti vadano avanti i migliori, si premi il talento, le capacità, io davvero credo che questo congresso deve essere l'occasione con la quale il PD mette fine alle correnti, che però anche qui le correnti non sono un po' l'anima di un partito, se non sono litigiose, non si arriva allo scontro il brainstorming, il mettere insieme tutti i cervelli, tutti le menti, tutte le sensibilità all'interno del partito non sono un po' la strada per andare avanti? Io ho visto finora, negli anni di esistenza del PD che tutti coloro che hanno preso un'iniziativa dicendo basta le correnti, il giorno dopo hanno fondato una corrente da questo diciamo anche lo stesso Renzi non l'ha ufficializzata ma stando in campo da tanto tempo è naturale che alla fine ha scelto questa strada, non lo si decide per decreto, nemmeno per decisione congressuale di mettere fine alle correnti. Lo si decide e lo si attua se si ha appunto la capacità di prendere decisioni su altre basi se ogni volta che bisogna prendere una decisione c'è il tavolo delle componenti, si ufficializzano queste organizzazioni allora io credo la selezione della classe dirigente, la nuova classe dirigente che il PD metterà in campo deve basarsi soprattutto su questo, sulla capacità di un partito di respirare, far respirare un'aria nuova soprattutto a coloro che partecipano e che hanno voglia di stare in campo. In provincia di Frosinone siamo pronti per questa cosa, siamo pronti per creare un... siete pronti per creare un partito... Mi fa piacere il plurale... No, no, io sono super partes... Succherza... Per creare un partito che non si divida in nessuna delle scelte strategiche, poi è normale dividersi per altri tipi di scelte ma nei momenti seri che non si divida, come è accaduto nei mesi scorsi anche. Io credo che questo è il primo vero congresso che affronta il PD e per questo deve essere una roba vera ci si sta confrontando su diverse ipotesi, su diverse idee di sviluppo del nostro territorio e su diverse idee rispetto al partito. Vinca, io insomma spero, lavoro perché vinca Simone Costanzo questo confronto e che diventi il nuovo segretario del PD provinciale. Poi tutti al lavoro assieme, certamente. Se il partito fa questo diventa un partito maturo e pronto a discutere, pronto soprattutto a risolvere i problemi delle persone. Se continuiamo facendo in modo che il giorno dopo un congresso di fatto se ne apre un altro è una roba che poi non è utile ai cittadini di questa provincia. Io chiederei in regia se già sono pronte le telefonate e direi che è il caso. Tra 20 secondi sono pronte le telefonate, allora una domanda telegrafica. Dalla regione, Mauro Buschini, come vede questo territorio della provincia di Frosinone e del sud del Lazio? È un territorio che indubbiamente ha tante emergenze e difficoltà. Affrontiamo crisi industriali, affrontiamo problematiche quotidiane, spesso drammi. Però è anche un territorio che ha grandi potenzialità. Se noi torniamo ad investire e lo rendiamo appetibile a coloro che possono e debbono investire. E cioè se lo rendiamo un territorio pronto ad una nuova economia, io credo che abbiamo tante potenzialità e tante possibilità per poter risalire la china. Allora, partiamo con la prima telefonata. Benvenuta a Carla D'Alatri. Buonasera a tutti. Allora, innanzitutto, onorevole Buschini, esprimendo comunque apprezzamento a lei come Presidente della Commissione Pirancio e all'Amministrazione Zingaretti della Regione Lazio. Sulla base di quanto si legge ultimamente sui giornali circa le politiche di risparmio che la Regione Lazio sta mettendo in atto, ci potrebbe dare qualche informazione, qualche dettaglio sulle proposte di riordino delle società regionali, i tagli ai consigli di amministrazione. Ecco, ci può chiarire con qualche dettaglio in più in che cosa consiste questa politica di vostra apprezzabilissima di risparmio della spesa pubblica? Grazie. Grazie Carla che mi ha rubato una domanda, tra virgolette, che era in scaletta. Ne parleremo subito. Sentiamo adesso una seconda telefonata, se c'è. Allora, rispondiamo subito a questa domanda di Carla. Riordino delle società regionali. Ci sono delle società che effettivamente erano troppe in regione che spendevano molto, avevano dei consigli di amministrazione. La commissione bilancio di Mauro Buschini è stata ratificata, verrà ratificata dal Consiglio. Queste società sono state disboscate, diciamo. Indubbiamente la Regione Lazio ha troppe società. troppi enti, troppe lungaggini burocratiche. Noi, lo avevamo detto in campagna elettorale, è stato il nostro principale punto di partenza, di riforma della Regione. L'idea è riformare completamente la Regione e la sua macchina organizzativa. Ad esempio, nel settore dello sviluppo e di rapporto con le imprese, la Regione Lazio ha finora BIC, FILAS, Union Fidi, Banca Impresa Lazio, Agenzia Sviluppo Lazio, tutti soggetti che in alcuni casi l'uno fa la stessa cosa dell'altro con il risultato finale che nessuno riesce poi a dare risposte. E con costi che sono costi davvero ingenti. Allora, di queste cinque società e di altre società che fanno parte del sviluppo Lazio ne faremo una sola, tagliando chiaramente consiglieri di amministrazione. Noi passiamo, considerate, da 38 membri di amministrazione a tre. E quindi tagli anche ad alcuni costi. Ma il risultato principale è dare la possibilità agli investitori, alle imprese, ai giovani che ad esempio, io questa mattina ho partecipato ad un bellissimo convegno all'Università di Cassino sulle start-up e sulla possibilità che le start-up sostenute adeguatamente possono dare ai giovani la possibilità di scommettere su se stessi se si sviluppa una politica che sostiene le nuove imprese e le nuove iniziative. dare ai cittadini e alle imprese un unico interlocutore che può parlare, diciamo, un linguaggio da un punto di vista veloce ma anche togliere burocrazia, lungaggini. Un imprenditore, stando alle cose così come le vediamo oggi, davvero prima di avere una risposta dalla pubblica amministrazione rischia di perdersi nei meandri della burocrazia. Allora un unico interlocutore che costa di meno e che può essere più efficace e più efficiente. Martedì andrà sempre in commissione bilancio la memoria di giunte, quindi l'inizio della discussione, anche su un altro filone di aziende che sono quelle della mobilità. Attualmente ci sono Aremol, Cotral Patrimonio, ci sono Astral, altre società e anche lì di queste tre società ne vogliamo fare una sola. Faremo questo anche con altre società e altri enti in totale finora rispetto ai disegni di legge che abbiamo presentato noi abbiamo già tagliato 75 poltrone e incarichi. Questo produce da un lato risparmio, dall'altro produce efficienza della macchina. Allora abbiamo Giuseppe D'Apasso Corese che se non erro è in provincia di Rieti e siamo felicissimi di avere un telespettatore dalla provincia di Rieti che non sarà l'unico naturalmente. Salve Giuseppe e benvenuto. Buonasera. Senta, io volevo chiedere all'onorevole Bruschini. Se il Signor Di Patria, il centro-destra e il centro-sinistra si sono uniti per formare questo governo avallato dal Presidente Napolitano, se nel percorso di governo metà maggioranza ha protestato contro la magistratura, per quale motivo il signor Letta Enrico non ha ridato il mandato al Presidente Napolitano? Per quale motivo ha aspettato che si rigongiungesse come se non fosse successo niente, ma manifestare contro le forze dell'ordine, contro i giudici? Ma non è una grossa vergogna. Per quale motivo il centro-sinistra ha aspettato e non l'ha lasciato? Perché non è la strada per poter andare insieme uno che si comporta in un certo modo. Grazie. Grazie, grazie Giuseppe. Prima della risposta dell'onorevole Buschini, una comunicazione di servizio, il signor Mario da Roma che ci ha chiamato. Se cortesemente ci può richiamare perché il numero risulta sbagliato o lo abbiamo sbagliato noi a prendere o c'è stato un errore nella comunicazione. è una bella domanda quella che arriva dall'amico Giuseppe. Sì, indubbiamente è una bella domanda. Ma innanzitutto, dicevo prima, non è il nostro governo e non è certamente il governo per il quale per esempio, sottoscritto e tanti altri, abbiamo fatto la campagna elettorale e chiesto il voto ai cittadini. è un governo di emergenza che abbiamo dovuto sostenere e al quale abbiamo dovuto dar vita perché ci sono alcune cose che il Paese aspetta e che sono necessarie ed è anche urgente dare alcune risposte e perché non si poteva tornare di nuovo al voto nell'immediatezza anche perché tornare al voto con la stessa legge elettorale il rischio è che si riproduca di nuovo lo stesso risultato e quindi sostanzialmente una ingovernabilità del Paese e rispetto all'Europa, rispetto agli investitori, rispetto agli equilibri economici più generali questo può essere un grande problema ma è un grande vulnus per il nostro Paese. Il PD non ha fatto finta di nulla ne ha aspettato che la nottata passi ma sul caso Berlusconi il PD ha preso una decisione molto netta una posizione molto netta sostanzialmente partendo dall'idea che la legge è uguale per tutti e che quindi le sentenze vanno attuate, rispettate e non si può commentare rispetto a tutto ciò ma è ovvio che la possibilità della crisi di governo ha aperto anche nel centro-destra un dibattito noi siamo stati rispettosi di quel dibattito certamente non è il governo che proseguirà nel corso degli anni insomma noi vogliamo nel momento in cui passa questa fase e le prime risposte mettono in sicurezza il Paese tornare al voto, vincere le elezioni e dare al Paese un governo di centro-sinistra. Questa sera stiamo confermando il fatto che anche su Roma siamo una delle televisioni la televisione più vista del Lazio e abbiamo dei ottimi risultati anche da fuori delle nostre province storiche di Flusione Latina abbiamo Gabriele da Roma ben trovato Gabriele Ah sì, buonasera poi in realtà comunque io mi guardo da Roma ma perché comunque tutta la piena famiglia di Bastena quindi in realtà non è che sempre... Ah beh però abbiamo i dati che ci confermano che anche da Roma siamo... Ci rica I compaesani diciamo ecco io volevo chiedere una cosa poco fa si parlava di start-up e tutto il resto ma a me sembra, cioè è un'opinione mia ma si fa poca pubblicità sugli incentivi da parte dell'Europa, finanziamenti ecco io per esempio ho ereditato dai nonni una grande, una casa abbastanza grande ecco che ovviamente per una famiglia è... cioè ma non c'è possibilità diciamo dei finanziamenti per tipo farci un agriturismo ma queste cose per esempio sono poco pubblicizzate questa è la mia domanda come si può accedere a questo perché mi sembra che sia un agono un pagliaio trovare proprio questo tipo di aiuti non so se sono stato chiaro su questo senso insomma Allora, se innanzitutto signor Gabriele ci lascia la mail qui in redazione dove ha telefonato la chiesta all'onorevole Buschini così magari entrate in contatto e c'è subito la risposta dell'onorevole grazie Gabriele ma indubbiamente questa telefonata di Gabriele pone un interrogativo insomma io credo che Gabriele abbia ragione da questo punto di vista cioè pubblicizzare di più sicuramente meglio partiranno delle campagne nei prossimi giorni sono state pianificate dalla Regione e dalla Presidenza nel corso dei giorni precedenti ci sono ora l'impegno di tanti nuovi fondi europei ma soprattutto noi abbiamo riempegnato fondi che rischiavano di andare persi se non li avessimo impegnati entro il 31 dicembre è stata la nostra scelta quella di puntare soprattutto su start up su redditi impresa sull'innovazione sulla filiera energetica cioè su quei settori che possono innanzitutto avere successo ma che possono rappresentare attraverso un giusto tasso di innovazione un nuovo volano di sviluppo e di soprattutto occupazione e lavoro ci sono fondi impegnati anche per fare quella tipologia di attività che Gabriele ci chiedeva il sito della Regione è aggiornato quasi quotidianamente su questo ma partiranno delle campagne nel corso dei prossimi giorni e come detto ciascuno di noi attraverso la propria mailing list sta cercando di pubblicizzarle al massimo questo in questa prima fase poi il nostro lavoro verrà fatto assieme alle associazioni di categoria ai sportelli dei confiti alla riorganizzazione quando dicevo ad esempio chiudere tutte quelle società intorno a Sviluppo Lazio e farne una sola per avere l'interlocutore chiaro, netto noi ad esempio vogliamo riformare anche quelli che erano gli sportelli BIC sul territorio anche in province ce ne sono sono in tutte le province ma vogliamo renderli non solo sportelli del BIC ma terminali veri della Regione territorio per territorio attraverso una sorta di casa della nuova impresa alla quale ci si può rivolgere sia sotto forma di incubatore di nuova impresa ma anche per la consulenza per essere accompagnati per essere aiutati a rispondere a un bando prima di tutto a poterli conoscere anche nella nostra provincia abbiamo idea come in tutte le province del Lazio di puntare su questi terminali in maniera tale che la rete attraverso anche questi uffici e le associazioni, i confiti di tutto ciò che ci può aiutare e ci può sostenere nella divulgazione ma anche nell'accompagnare la nuova impresa perché il punto è anche consigliare dare consulenza anche gratuita a coloro che hanno un'idea e che poi hanno necessità e bisogno di essere accompagnati appunto nell'attuazione di quell'idea stessa Mario da Roma ben trovato buonasera salve prego posso fare posso? come no? deve allora dovrei fare una domanda non so c'è il signore che io chiamo da Roma l'onorevole Buschini non lo conosco io sono 60 anni che sto a Roma sì dovrei fare una domanda sola ma ma può essere in Italia non c'è un politico veramente serio con le palle quadrate è un po' vaga come cosa questa è personale no 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 la faccio subito no 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 sia di destra che di sinistra non abbiamo una persona seria sono tutti qualcuno qua rientra nelle sfede personali ha una domanda più più precisa no no questa solo la voglio fare io ah vediamo vediamo di di perché perché non ci abbiamo nessuno che ci guida veramente ok allora chiediamo all'onorevole Buschini grazie Mario perché sembriamo tutti proprio così alla rifusa così vai 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 ok ci proviamo signor Mario noi siamo qui per questo allora onorevole Buschini come si fa per guidare il popolo e per avere il rispetto sta nel solco di una richiesta di rinnovamento che il paese che non arriva solo da giovani perché il signore ha detto che è da 60 anni che è a Roma quindi indubbiamente sì ma insomma la richiesta di cambiamento e rinnovamento della classe politica è una roba che non riguarda solo i giovani ma è sicuramente un tema che il paese chiede con forza io posso rispondere dicendo che noi davvero ce la stiamo mettendo tutta io credo che l'amministrazione di Zingaretti Zingaretti stesso insomma nell'arco di 6 o 7 mesi abbiamo messo in campo riforme cruciali sostanziali per questa regione e che lo facciamo con grande passione con grande voglia di fare poi insomma le persone giudicheranno i risultati che arriveranno e lo faranno con la massima io credo serenità con la massima serenità e con le idee molto chiare io posso solo dire a Mario che ce la mettiamo tutta e che soprattutto vogliamo cambiare questa regione per dare un futuro ai tanti giovani e alle tante persone che oggi faticano ad avere un futuro e che quando pensano alla parola stessa futuro a volte hanno uno stato d'ansia perché naturalmente fatichiamo ad avere opportunità e fatichiamo soprattutto a dare un futuro ai nostri figli Allora onorevole stoppa le telefonate le riprenderemo verso la fine della trasmissione facciamo una sorta di raffica su argomenti ben precisi allora la regione aveva annunciato ha annunciato sin dal suo insediamento Zingaretti con la sanità cambierà tutto gli ospedali chiusi noi li riapriremo sotto forma di casa della salute dall'opposizione dicono finora tanti annunci le liste d'attesa stanno sempre nello stesso modo la gente deve attendere mesi le case della salute ancora non si vedono gli ospedali rimangono chiusi quelli che ci stanno vengono depotenziati allora riusciamo a dare una scadenza temporale la scorsa settimana c'è stato un appuntamento molto importante tra Zingaretti c'era presente anche lei ed alcuni sindaci quelli delle case della salute allora quando apriranno queste case della salute? ma innanzitutto davvero lasciatemi dire ci vuole molto coraggio da parte dell'attuale opposizione nel parlare della sanità soprattutto in provincia di Frosinone ci vuole tanto coraggio nell'accusare un'amministrazione che si è insediata da sei mesi nel dire che siamo ancora all'effetto annuncio noi abbiamo un progetto molto chiaro che abbiamo iniziato ad attuare lasciatemi dire che approvando il bilancio appena ci siamo insediati abbiamo ottenuto il riconoscimento di 5 miliardi e mezzo e successivamente diventati 8 miliardi e mezzo per pagare i fornitori anche in sanità ci sono stati accreditati prima 800 milioni di euro ora 600 milioni di euro per sostanzialmente iniziare a mettere in ordine i conti della sanità della regione Lazio rispetto ai debiti pregressi ma soprattutto rispetto a tanti fornitori che non avevano ricevuto i pagamenti nel corso di questi anni una sanità soprattutto in provincia di Frosinone che ha subito tagli straordinari ora noi c'è stato il primo decreto di Zingaretti che ha di fatto dato un criterio cioè tutte le strutture ospedaliere chiuse con il decreto 80 saranno sede e oggetto di case della salute cosa sono le case della salute sono sostanzialmente un terminale della medicina di territorio cioè di quella medicina che serve tutti i giorni che serve per la diagnostica per la prevenzione per il piccolo intervento per la piccola emergenza serve per l'analisi quotidiana che serve soprattutto per decongestionare per alcune tipologie di cronicità e tutto questo serve innanzitutto a dare l'idea che c'è una sanità che viene detta di prossimità appunto perché va incontro al cittadino perché la possiamo avere quando arriveremo al regime tra poco tempo anche a poca distanza da casa propria questo decongestiona il pronto soccorso decongestiona gli ospedali perché ad oggi per qualsiasi cosa noi dobbiamo andare in ospedale dobbiamo andare al pronto soccorso non a caso quando arriviamo al pronto soccorso la fila è chilometrica e non c'è una distinzione netta tra l'emergenza vera quella che è necessario affrontare nel giro di pochi secondi perché c'è a rischio una vita e mentre cose che sono spesso ordinarie sono piccole cose che si possono affrontare anche fuori dall'ospedale e quindi questo è il progetto case della salute che non è un progetto aleatorio c'è il decreto e c'è stata la prima riunione l'ASL poi ha fatto una sua riunione operativa e quindi noi stiamo procedendo perché questa idea di sanità sia attuabile nel giro di pochissimi quanto? non mi faccio dire la scadenza ma nel giro di pochissimi mesi noi avremo la possibilità vera di tornare a riaprire strutture dopo stagioni di chiusura così come le liste d'attesa insomma anche là ci vuole coraggio tanto coraggio da parte della destra che nel corso degli anni di governo non solo ha peggiorato la situazione noi faremo tra poco una legge che verrà calendarizzata nei prossimi giorni in consiglio regionale per fare una cosa molto semplice cioè uniformare le agende del pubblico e del convenzionato mi spiego diciamo cerco di spiegarmi meglio oggi quando si chiama il cup per fare una prenotazione il cup ha tra le sue disponibilità l'agenda nelle sue disponibilità mediamente il 40% dell'offerta complessiva se noi mettiamo tutto dentro un'unica agenda e quindi il cup ha la disponibilità di tutte l'offerta che c'è provincia per provincia e complessivamente della regione questa offerta è ovvio che si raddoppierà perlomeno e quindi naturalmente c'è la necessità di poter avere maggiore disponibilità da un lato dall'altro poi dividere anche là l'emergenza la necessità di chi ha un problema da affrontare nel giro di poche ore da chi invece è sottoposto a controlli che sono ordinari per una cronicità che ha nella propria vita e vanno distinte le cose perché molto spesso magari un attack può salvare una vita e molto spesso ce la ritroviamo messa dopo mesi mesi e noi questo nel giro anche qui di pochissimi mesi è un punto che affronteremo e che io spero risolveremo quantomeno con un immediato taglio delle liste d'attesa e poi insomma via via cerchiamo ad esempio di tornare ad assumere perché c'è un altro punto nella sanità della regione Lazio non si assume da tanto tempo per il fatto di essere commissariati e per il blocco del turnover ma questo oltre a che una carenza di personale produce un problema nelle professionalità me lo dicevano dei medici nel corso di una riunione fatta qualche giorno fa insomma c'è anche un problema del medico esperto che magari è vicino alla pensione che sente anche una necessità la sente già egli stesso di trasmettere la propria professionalità il proprio mestiere ai più giovani insomma io credo che questo è un punto che noi dobbiamo affrontare le nuove risorse che arrivano il fatto che dentro i tagli diciamo noi non stiamo sacrificando i servizi e il fatto che la curva diciamo di indebitamento si allineerà e noi torneremo ad avere nuove risorse significa che potremo fare anche degli investimenti prima ancora che sulle strutture sui servizi da dare ai cittadini Telegrafico se a Mauro Buschini dico Viadotto Biondi senza che andiamo a vedere tutto quello che è successo prima adesso però pare si sia aperta una nuova stagione quella della collaborazione gli interventi dell'Ardis il promesso intervento anche sulla spalletta che ci sarà nelle prossime settimane il Viadotto Biondi è una infrastruttura che è nel centro di Frosinone oltre ai rischi che può crollare e portare giù con sé tutto un costone c'è anche un problema per la viabilità Frosinone paralizzata molte volte nelle ore di punta la regione mi permetti di dire però che non si è aperta una nuova stagione noi stiamo semplicemente facendo quello che abbiamo detto dal primo minuto che avremmo fatto io non ho capito tante polemiche a che cosa servivano abbiamo detto studiamo un progetto complessivo per risolvere davvero il problema non per mettere una toppa dal comune hanno detto noi il progetto lo abbiamo abbiamo tutto quanto è inutile che fanno gli studi perché bisogna solo intervenire non è che ci si presenta davanti io vorrei che si capisse che la regione non è un banco Matt cioè che non è che chiediamo alla regione la regione ci deve dare tutti i soldi che chiediamo noi risolviamo i problemi sapendo che insomma c'è un un risparmio da fare che non è più tempo di impiegare risorse senza progetti molto chiari netti e precisi per risolvere i problemi non a caso adesso si sta intervenendo sul fiume e nelle prossime settimane si interverrà sulla frana così come avevamo detto e avevamo diciamo programmato di fare lo dico al comune di Frosinone lo dico a questa diciamo particolare voglia che c'è di fare polemica che le polemiche non aiutano soprattutto nel rapporto tra istituzioni l'idea di utilizzare le istituzioni per una battaglia politica è una roba che non serve più basta le istituzioni sono istituzioni e collaborano fra di loro affrontano i problemi e cercano di risolverli altra cosa è la battaglia politica chi mi conosce sa quanto io ami poi la battaglia politica e anche i toni quando servono anche aspri ma le istituzioni sono un'altra cosa non vanno mai coinvolte nella battaglia della politica allora andiamo avanti con i nostri segmenti adesso io andrei a sentire quella che è la domanda che ogni settimana arriva ai nostri ospiti e questa settimana arriva da una personalità che siamo riusciti ad avvicinare lo diciamo con una punta di orgoglio solo noi il direttore dello stabilimento Fiat di Piedimonte San Germano Coppola prima di sentire la domanda che ha rivolto l'onorevole Buschini vi ricordo il numero di telefono 0776 72 8050 dopo la risposta di Buschini alla domanda di Coppola ci saranno le ultime telefonate e poi ci avvieremo alla chiusura andiamo a sentire la domanda quello che posso dire è che secondo me occorrerebbe fare un sopralluogo fisico piuttosto che affidarsi probabilmente a dei tecnici per rendersi conto di come in questo momento è la viabilità nei pressi dello stabilimento ricordiamo che in uno stabilimento come il nostro quando si lavora entrano circa 400 mezzi entrano oltre 6.000 persone tra il personale dello stabilimento e le società collegate allo stabilimento che lavorano all'interno del comprensorio molto spesso la viabilità è ai limiti molto spesso alcuni mezzi che trasportano persone sono costretti per la presenza di buche a invadere le corsie opposte noi praticamente abbiamo fatto presente alle istituzioni locali la situazione sappiamo che ci troviamo in una situazione critica per quanto riguarda i bilanci degli enti e degli organismi di Stato ma penso che come ho detto nel mio intervento che la sicurezza non ha prezzo il dottor Coppo l'aveva detto nell'intervista che abbiamo mandato in onda nel telegiornale noi siamo pronti a fare la nostra parte gli investimenti industriali sono quelli che dobbiamo fare noi e qui a Cassino stiamo lavorando per creare le condizioni però le istituzioni debbono aiutarci allora riusciamo a accolgo davvero positivamente questa domanda di di Coppola nel senso che se il problema sono le strade lo affrontiamo subito il problema a livello infrastrutturale io credo la regione negli anni passati ha dato delle risposte cioè ricordiamo tutti la ormai nota legge 46 lasciatemi dire finanziata dal mio amico Francesco De Angelis che ha dato risposte infrastrutturali importanti a partire dalle rotatorie fino a la piattaforma tecnologica a servizio della Fiat e l'annuncio di Zingaretti c'è stata poi una parentesi è bene ricordarla perché poi a volte diciamo la destra ritiene che poi le cose si dimenticano nel giro di qualche ora stagione centrosinistra assessore regionale De Angelis 25 milioni di euro sulla legge 46 a sostegno della Fiat e del suo indotto tre anni di polverini 50 mila euro messe sulla stessa legge noi abbiamo già detto che al prossimo bilancio rifinanzieremo la 46 e siamo pronti a anche diciamo oltre al sovralluogo a un'interlocuzione seria con Fiat per vedere quelle che sono le esigenze da affrontare assieme io credo però che abbia fatto bene Nicola Zingaretti a chiedere un incontro a Marchionne e a ribadire diciamo con forza le cose che la regione il governo ha fatto per la Fiat e per lo stabilimento di Piedimonte San Germano cioè io credo che questa industria ha dato e può dare tantissimo al nostro territorio in termini di occupazione di produzione di indotto e di sicurezza economica noi vogliamo fare la nostra parte anche noi se uno dei problemi è quello lavoriamo per affrontarlo e insomma io sono disponibile da subito ad andare a fare un sovralluogo e a vederlo assieme affrontiamolo assieme però anche Fiat deve dire al nostro territorio al sindacato alle forze sociali alla regione Lazio qual è il piano strategico dove vogliamo andare quali sono gli investimenti che si possono e si debbono fare su questo stabilimento che è tra i più produttivi tra diciamo tra potenzialmente potenzialmente è tra i più aggiornati più innovativi all'avanguardia degli stabilimenti Fiat e quindi insomma noi siamo non disponibili disponibilissimi a fare un lavoro assieme a partire dalle sollecitazioni del direttore lei che parla quasi giornalmente con Zingaretti da Marchionne lettera morta non è arrivata nessuna risposta riguardo a quella lettera di un incontro ha chiesto un incontro eh dico la risposta ancora non è ci sarà insomma lo voglio sperare lo credo una risposta insomma noi presenteremo anche assieme al consigliere Fardelli che ha depositato una mozione e che ho sottoscritto ma come dire a lavorarci assieme il consiglio regionale si unirà nei prossimi giorni per affrontare assieme tutti maggioranza e opposizione questo tema per sollecitare ancora di più Marchionne attraverso una mozione votata sostenuto dall'intero consiglio regionale 0776 728050 siamo pronti a rispondere alle vostre telefonate intanto c'è una mail che mi è arrivata in settimana proprio da sottoporre a Mauro Buschini la sottopone Maurizio che ci dice per i lavoratori in mobilità della provincia di Frosinone ma anche di tutto il Lazio che attendono il contributo che dovrebbe arrivare dalla regione cosa si può fare sono mesi questo è quello che è scritto nella nostra mail sono mesi che non ricevono questi contributi che a suo dire dovrebbero arrivare dalla regione Lazio lì ci sono le determini che la regione deve fare quotidianamente si segue un ordine cronologico insomma anch'io vengo sollecitato quasi quotidianamente per questo tipo di problemi indubbiamente poi quando si dice gli ammortizzatori sociali poi le famiglie servono e quindi io insomma capisco ma si segue un ordine rigorosamente cronologico insomma stiamo anche là cercando di velocizzare il più possibile i tempi anche le risorse per poter affrontare questo tipo di problemi per quanto riguarda l'accordo di programma c'è stato l'ingresso sono le ultime ore di Federlazio è riuscita ad entrare dopo le polemiche che ci sono state quest'estate un'altra associazione datoriale fondamentale della nostra provincia soprattutto perché racchiude migliaia di piccole e medie imprese che sono poi il tessuto forte del territorio ciociaro Giuseppe Patrizzi oggi ha detto siamo al 75% per quanto riguarda la composizione del bando stiamo continuando ad incontrarci Mauro Buschini come la vede positivamente questa cosa io credo che sia stata una delle risposte più importanti che la regione poteva dare al nostro territorio cioè affrontare una crisi non continuando con gli ammortizzatori sociali ma in eterno ma cercando di dare un nuovo sviluppo una nuova certezza ad un pezzo importante del nostro territorio è andato in crisi in maniera profonda prima videocon su indotto tante piccole imprese poi la Ilva poi Marangoni poi insomma io credo che questo grande finanziamento che non è una roba a fondo perduto sul diciamo finanziamenti a pioggia o ma vuole premiare con forza progetti innovativi capaci di dare occupazione e di dare soprattutto prospettiva significa far tornare il nostro territorio ad essere appetibile il discorso che facevamo all'inizio si può venire ad investire qui nella provincia di Frosinone perché ci sono degli strumenti di convenienza per poter venire ad investire qui e credo che questo è un punto di attrazione molto molto importante noi abbiamo impiegato tante risorse ora c'è un lavoro che soprattutto la parte tecnica sta facendo ci sono tante disponibilità e tanto interesse anche da parte dei multinazionali per concentrarsi qui è davvero la possibilità se noi intrecciamo questo assieme a nuovi canali di investimento dal turismo fino ai servizi fino alle nostre produzioni se rimettiamo tutto assieme allora possiamo aprire una nuova stagione di sviluppo per il nostro territorio prima di salutarci c'è qualche appuntamento che dobbiamo segnarci sull'agenda per quanto riguarda la prossima settimana in consiglio regionale in regione a parte quello che già ci ha detto per quanto riguarda le società c'è il consiglio di mercoledì dove ci sarà appunto la mozione della Fiat e poi c'è questo appuntamento importante l'ho ricordato di nuovo affrontiamo da un lato la memoria di giunta sulle società del trasporto pubblico dall'altro cominceremo la discussione sulla riordino e abolizione delle comunità montane trasformazione in unioni di comuni e quindi anche lì un'altra trasformazione anche perché martedì ci sarà una protesta sotto la regione proprio delle comunità montane con i lavoratori socialmente utili perché anche lì c'è una questione abbastanza spinosa scabbrosa è una questione che noi ci siamo davvero ritrovata e che stiamo cercando di risolvere ma abbiamo bisogno anche di strumenti legislativi perché non è che gli errori fatti prima debbano essere poi tramutati nuovamente in errori il problema degli LSU va risolto ma va risolto dando loro possibilità alla certezza che poi si risolva definitivamente non è un problema solo di risorse è un problema anche di strumenti legislativi che dobbiamo trovare assieme e però insomma da questo punto di vista il nostro impegno è totale l'assessore al lavoro Lucia Valente assieme a Nicola Zingaretti sono stati diverse volte al Ministero per sollecitare una soluzione e soprattutto rappresentare un punto di soluzione definitivo bene termina qui il nostro appuntamento grazie grazie a tutti voi a casa se siamo alla prima televisione del Lazio e soprattutto merito vostro ma soprattutto grazie all'onorevole Buschini per aver passato quest'ora in nostra in vostra compagnia grazie a voi grazie a tutti i telespettatori e noi ci vediamo giovedì prossimo a tutti i telespettatori